a tinta camera serene signori Teresa e Marilena allora questo è quello che ho detto, ho detto i propri no? ecco, grazie allora, tieni chi è Teresa e chi è Marilena? Teresa, Marilena bene, allora e loro vanno sul classico tanto come state? bene, parla il microfono siete emozionate? no ragazzi, aiutiamoli perché il pezzo è facilissimo signori, il gatto è la morte grazie a tutti grazie a tutti e di ora a volte siamo in una scelta di noi di qua e di qua. Sui fratelli dei due anni dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. E' una lista specializzata a incontrarti a te dai, che non ti prendi mai. Noi soppriamo tale che non paghiamo mai, non potremo più dare le tue qualità. Dacci solo un quarto buonere che ti si vanno a contorso e invece c'è vita. Non neanche un vero a fare, non perdere l'occasione, se no poi te ne ti dirai. Sopratti da tutti i ritorni di avere due e con sulla rifiutura, i titani che ti fanno in quattro perché. avanti non perdere il tempo di faccia. E' un normale portata, è una formalità. Tu ci c'è di tutti i ritorni di avere due e noi dovevamo di te. Tutti i votanti di fare. E' un normale portata. Bravo! Bravo! Amati non perdere il tempo. Meravigliose, bravissime. Grazie.